Seduto in quel caffè io non pensavo a te Guardavo il mondo che girava intorno a me Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire Mi trovai sotto braccio a lei stretti come se non ci fosse che lei Seduto in quel caffè io non pensavo a te Guardavo il mondo che girava intorno a me Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire Mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei Vedevo solo lei e non pensavo a te Il buio ci trovò vicini un ristorante e polli di corsa A parlare sotto braccio a lei stretto verso casa Abbracciato lei quasi come se non ci fosse che quasi Come se non ci fosse che lei Oggi 30 settembre Mi sono svegliato e sto pensando a te Ricordo solo che ieri non eri con me Il sole ha cancellato tutto Di colpo giù dal letto Di colpo giù dal letto la cornetta la cornetta è rimasta lì e poi? e poi cosa? è arrivato il 30 settembre era già il 30 va bene è comodo quando vai al bar ti succede tutto questo? si al bar hanno collaborato tutti i musicisti della mia band tutti i ragazzi che vedi sono i musicisti della mia band che suonano dopo uno fa anche il cameriere loro sono due la prima Monia è un'attrice la seconda è una fotomodella bellissima mi sembra mi sembra di sì ti tieni Maurizio Maurizio Vandelli ex leader è un grande gruppo che ha fatto straordinarie canzoni però adesso è arrivato il momento della giuria the moment 3 2 1 votazione che fai? ma il Gioia mi ha dato un votone e poi ti dico no io non sono buono sono giusto 9 9 10 9 5 io inizierei dal 10 scusate un video così bello merita il 10 sposini di piacere di colonna io ho una sola parola finalmente finalmente un video finalmente un'idea finalmente una cosa carina ironica divertente bravo 10 grazie massimo ciletti in realtà no questo è il tacco ha perso il tacco qualcuno ha perso il tacco però non è questo io gli ho dato 9 qualcuno ha perso il tacco l'ho trovato qui una scusate ragazzi chi è che ha perso il tacco? così si confonde cavallo regina è di malgioglio è di malgioglio scusate non me ne ero accorto no cristiano mi guarda severo no non ti guardo severo perché a mio avviso tu hai la voce più bella di tutti i cantanti italiani ti ringrazio sei straordinario il video non è vero no sì è prima che lo dico a tutti non è vero perché lo dico a tutti scusate hai detto a tutto anche abbiamo visto tutti sì l'hai detto anche a tutto scusate hai detto a tutto il video non mi ha fatto impazzire io ti preferisco come cantante che come regista bene ecco un 5 però è arrivato un 10 di scusini guarda che è va bene come un 10 di malgioglio più o meno grazie mille grazie 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 Maurizio Vandelli